Achille Costacurta ritorna su TikTok. Il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ha pubblicato un nuovo video, dopo quello in cui era con la madre, in cui si fa prendere il calco dei denti per realizzare dal suo gioielliere di fiducia una dentiera di lusso. Costacurta non ha dato dettagli ulteriori, ma avendo fatto riferimento a un gioielliere quasi sicuramente il metallo utilizzato è pregiato, forse argento ma più probabilmente oro bianco, e poi, i, denti, sono tempestati di pietre preziose o diamanti o zirconi. Si tratta di un oggetto molto appariscente, al momento Achille non si è mostrato mentre lo indossa ma il momento potrebbe arrivare presto. Billi Costacurta rompe il silenzio sul rapporto con il figlio Achille. Il ragazzo, 19 anni, è finito al centro di una bufera dopo una serie di storie su Instagram che mostravano delle bustine con una sospetta polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il suo nome, oltre a insulti nei confronti della madre Martina Colombari. Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente, ha detto l'ex calciatore, protagonista di, Stories, di Sky TG24 in onda lunedì prossimo, al fianco della moglie Martina. Vedo che insieme a mio figlio c'è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano, e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo, ha aggiunto.